Un pomeriggio del campo dell'Accademia Inter Torino, qui a Torino. Inizia l'ultima gara di campionato tra l'Accademia Inter Torino maglia bianca completo bianco e l'Italia Ives 2002 maglia blu. L'Ives attacca da sinistra verso destra, l'Accademia Inter Torino da destra verso sinistra. Campo in erba, spalti gremiti, anche qui contro l'Accademia. Temperatura gradevole. Eba, il tuo devi guardare, non solo il pallone. Sì, no, devo guardare. Ricordi. Robu, rovescio. Ricordi. Marco, Marco, non vedi. Vai, taglia, vai, taglia. Sotto l'incrocio. Sì. Speriamo. Guardi, tu sei la forza. Devi mettere la forza. Non c'è la forza. Non c'è la forza. Non c'è la forza. Sì. No, se c'è la forza. Non c'è la forza. Non c'è la forza. Nico, centro campo. Non c'è la forza. Non c'è la forza. Deve tirarlo solo. È in terra, basta. Non c'è la forza. Gol, 1-0. Grande taglia. Dai, raga. Ridiamo. Questo è 20 dicembre 2014. Vittoria Ivest 1, l'Accademia Inter Torino 0. 20 dicembre 2012, 1-0 tra l'Accademia Inter Torino e il Vittoria Ivest 2012. Un po' più cresce per noi. Tira! Fabio! Gol, gol! 2-0. Ehi, saliamo o no? Non dobbiamo salvinare! Bravo, bravo! Non scappate! Sempre 2-0. E dai, calocchia lì, puttana troia! In questo 20 dicembre 2014, ultima di campionato. Ce l'hai sul petto! Gioele, ce l'hai sul petto la palla, metti la giù! Davide! 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 Quanti tocca? Vieni qua! Guardi! Bravo, bravo Filippo! Pegli lo spazio! Davide! La prossima volta che fai un tocco in più, esi! Il compagno Fabio! Esci! Taglia! Tivo! Vieni qua! Dov'è il tuo? Sempre 2-0 in questa gara di campionato. Attacca la fa, attacca la fa! Anche dietro! Che la fai a prendere il staffato? Dai, 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 prendere i tuoi! 5 metri! 5 metri! Gioca lì con Luca! Vai Luca, vai Luca, bravo! Guarda la palla! Guarda la palla, non tagliare! Si! sì! Buona per la parte! Scarico! Mettila come viene! solo dall'altra parte andiamo dall'altra parte ancora buono luca ce l'hai a fianco vedi cosa vuol dire correre fabio segni lo spazio eccolo lì e vai bravissima vagli in appoggio luca buono continuo attacca sta palla 3 a 0 con gli alessio vieni 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 portalo fuori 3 a 0 sempre qui questo sabato 20 dicembre tra l'accademia l'intertorino maglia bianca completo bianco e il traives completo blu calcio d'angolo gioele bravo perfetto portalo via vai 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 ma dove oh bravo bravo andiamolo dove vedete che state camminando gioca luca prova giocala giocala sei solo dentro dentro raffa dopo decidi dopo va la punta raffa non vai tu raffa va la punta vai 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 gira sempre 3 a 0 primo tempo state camminando e manda uno, manda uno, entra tu, entra tu adesso Luca, senza paura, è lo spazio, entra in porta ancora gira Gioele, vuoi quello là vado io a marcarlo, vero? Luca, dovete guardare gli uomini vieni Luca, vai in centro Luca, in mezzo, in mezzo Luca vai, nel portiere inizia il secondo tempo nel periodo non collegato l'Accademia ha segnato 4 a 1 quindi per l'Ivest ma 1 a 0 per loro in questo secondo tempo mando, mando bravo, sono l'uno contro uno buona, buona gioca, gioca gioca guarda il compagno bravo Nico in questo secondo tempo l'Ivest attacca da destra verso sinistra l'Accademia bianco che gioca in casa da sinistra verso destra eccola lì compagno, bravo saliamo o no? gioca vai l'incontro vai l'incontro bravo Luca bravo Luca bravo vieni a marcarlo Lorenzo lo stupo divietterò vai 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 tack vai vieni ai vai vai ai vai 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 Eva, devi guardare l'attaccante, non solo il pallone Eva, dov'è il tuo uomo? Tanta roba, Eva Sempre 4 a 1 in questo secondo tempo O guardi solo il pallone 5 a 1 5 a 1 in questo secondo tempo tra Accademia, Inter, Torino, Maglia Bianca e Vittoria Rivers 2002, completo blu Questo 20 dicembre 2014 Dai Matteo, dai Matteo, vai Vai, vai Vai, però vai Entra, entra in porta Senza paura Seba, entra a letto Inizia il terzo ultimo tempo Grazie 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 Evito È vero? Sì Vittorio Mi hai dato? Mi hai dato che mi hai dato? Mi hai dato che mi hai dato? Vai dentro Esca, è dentro 5 a 2 6 a 2 6 a 2 6 a 2 6 a 2 7 a 2 7 a 2 7 a 2 7 a 2 7 a 2 7 a 2 7 a 2 7 a 2 7 a 2 7 a 2 7 a 2 7 a 2 7 a 2 7 a 2 7 a 2 7 a 2 8 a 2 8 a 2 8 a 2 8 a 2 9 a 2 9 a 2 8 a 2 9 a 2 9 a 2 9 a 2 Grazie.